Non è mai stato fatto il nome di Letta per la Presidenza del Consiglio, né in sede ufficiale né in questo vertice, nemmeno nei pur per lei, perché è evidente a tutti, io dico, mi sembra un dato di fatto, che se c'hai tre presidenze in Europa, la Presidenza del Consiglio, la Commissione, la Presidenza della Banca Centrale Europea, è difficile pensare che due su tre tocchino all'Italia, così come immagino che nessuno pensi di modificare l'esistente, quindi questa ipotesi l'ho letta sui giornali italiani e in qualche dichiarazione di politico italiana, che sono entrambe fonte molto qualificate, non nelle cancellerie europee, poi c'è un elemento in più, se proprio dobbiamo dirla tutta, cioè c'è una discussione in corso tra le forze politiche europee se la Presidenza del Consiglio debba toccare, a quale famiglia politica tocchi la Presidenza del Consiglio. In sintesi estrema, sarà poi far rompo e a sciogliere questo nodo, ma ragionevolmente la Presidenza della Commissione al Partito Popolare chiama l'alto rappresentante ai socialisti, più o meno, e quindi va capito se in questo pacchetto i socialisti ottengono anche la Presidenza del Consiglio, oltre che la prima metà della Presidenza del Parlamento. Sono dunque delicati equilibri e incastri che non riguardano, per i quali probabilmente qualcuno dovrebbe richiamare la cencelliana memoria italiana, perché sono molti equilibri anche geografici, però nel merito, nel caso specifico del Consiglio, non credo proprio possibile che su tre Presidenze ce ne diano due all'Italia su 28 Paesi. Questo mi sembra abbastanza un principio di buonsenso. Ho letto però che ci sono dei nomi che sono molto forti nel dibattito politico italiano, che però non ho riscontrato nel dibattito tra le cancellerie.